Bene ragazzi, eccoci a un nuovo episodio di Tales of Arise. Ora siamo nella terra bruciata. Ma ci hanno messo già la canzone pretra, che cavolo! Che sarà mai successo in questo posto dimenticato d'addio! E direi di farmi prima sto angolo? Anche per capire... uh! Gufo! Sì, ora ma l'è chiuso? Ok... Bella Ampia! Molini? Eccoli! Questo è del vento allora! Energia astrale del vento! Quindi fino adesso ho fatto fuoco, luce e terra. E abbiamo imparato che questo è il vento. Quindi per il vento dovremmo utilizzare tutte le arti di terra. Allora c'è qualcuno. Dove stanno? Dove stanno? Siamo venuti qui per far fuori tuo lord. Giusto così per non bruciassi il braccio. Prima le sono già distrutte le case. Ah, quindi sono i ribelli? Il braccio gli sta fumando. Qualcuno che glielo curi nel frattempo? Sì, l'hanno fregato il lavoro a mo? Ma c'è il razzismo al contrario. Lo vogliamo, i veniani. Non passano. O tutti e nessuno. Sì, l'hanno fregato. Infatti... Sion va dove vuole. Quindi abbiamo il primo regno dove eravamo schiavi. Il secondo erano anche gli schiavi. Il terzo andavano nin 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 che convivevano. Questo invece... Hanno già liberato il paese. Interessante come è strutturata la cosa. Vabbè, io come al solito vado prima di qua. Tanto sarà chiuso. Ah, non da questa parte immagino. Qua non ci sta niente. Di qua sono venuta. Vediamo di qua. Ho spoccato un mondo veloce. Qua non ci sta niente. Qua non ci sta niente. No, 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 non inganna. E non è una bestia. Abbiamo capito che siete il capo. Natale... Non ho l'abbiamo fatto. Quindi una donna. Si, like her and drag her back in town. Then she'll get what's coming to her. I wouldn't be so sure. She may run, but she'll never go quietly. Shut up, Bright Eyes! I would've run you through already, if you weren't with the blazing sword here. The whole reason you're fighting is to free the Danans in this realm, is it not? If so, then... Shut your mouth, witch! That's enough! If you're really fighting for us Danans, why keep these bastards around? Cosa hai già matato? Non ce ne vede mai matato questi bambini. E' questo il caso? Dici il punto di questo show. Eri mie amici. Da! Non ci crede Magushion. Infatti, te la vorresti fare eh? L'ha colpito veramente. Colpito su un punto dolente. Invecele. Deadeim, tu sai che è completamente senza scopo. Voi tutti, vieni la macchina del mio ruolo. E non mai tornare. Questo è il ruolo di Dannon e è il nostro. Enti? Io mi chiedi i filmi. E io faccio le regole. E io, Deadeim. Liderio delle sue sue. Sì! Deadeim! Liberatore Deadeim! Sei il vero leader di questo realm! Non ci credo! È solo un problema di tempo! Prima di farlo ogni ultimo grigio, fuori di questo realm! I Darkwings! I Darkwings! Sì, ma non ci crede. Sì, questo non sta bene di testa. Non ci credo con lui, non ci credo con lui. Mi potremmo vedere con il tuo face. C'è la cosa che ci sono con lui. Si perde la tendenza, poi ti prendo in e calmo le cose. Più tu che io. Se questo è tutto, credo che è passato il tempo che siamo andati. Guarda, voglio solo che dimenticare per quello che Dedeheim ha detto. Ati che qualcuno ha alcune mani qui. Non è stato così, ma... beh, è quello che perdere la maggior parte dei tuoi amici dovrà fare per un uomo. Potremmo mai ricordare i suoi amici. È un po' irronico il quale indistinguibile il suo manner è per quello di un lord. Beh, Beifon? Dedeheim ha parlato che il lord è ancora sulla ruota? Qualche idea di dove potrebbe essere? Abbiamo guardato tutto il mondo, ma non abbiamo trovato le tracce di lei. Abbiamo ascoltato alcune rombolazioni sull'attività in Estaluva Forest, ma è tutto. Staluva, eh? ... 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 Grazie a tutti. 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 E quando dice notte? Grazie a tutti. Allora, abbiamo un musicista, una pescatrice, una maga. Finito? Ci stanno le missioni. Vabbè, ci rimane la biblioteca che dobbiamo trovare l'arma. Ok, prima di fare qualsiasi cosa, io mi inizierei un po' di missioni giusto per... Hmm... What's wrong? Allora... What the... Hmm... Perfetto. Già fatto. Ok... Da uno là sopra... Ah, questo vero. Quello che curava. Allora... Oh... Oh... Questo orcano... Dove c'è una vecchia torre. A nord del villaggio, disabitato al messo. Allora... 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 Dice... Pena oltre i tuqueri di una terra avvolta da sabbia e pietra. Quindi dovrebbe essere questo. Il punto più settentrano, l'onda desolata, a nord di un villaggio abbandonato. E ci siamo. Già giornalmente sul retro di una stretta strada a ovest. Su cui erge un'antica torre. Quattro. Sì. Sì. No This could be useful Hey, I think that might be what we're looking for Hmm, is this the so-called legendary incident? I'm not so sure How's this? I see Great Huh? Hmm? Agreed Don't worry Hmm 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 Andiamo alla locanda Hmm 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 How are you? Sì 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 All right Right Really Carina sta scenetta Vabbè Chisara mette il pesce lungo perché la scusa per cucire e per pescare All right Yes Over there Yes All right Yes Ce la faranno? All right By the by, Xiong If you don't mind my asking Would you be willing to share what sort of clothes are currently in fashion on Rena sometime? Sure As long as you call me Captain Sir Yes sir Captain Xiong I was just joking Kinda has a nice ring to it though That Deadeye creep certainly has a few screws loose, that's for sure Forget that guy Right now We need to discuss how What's there to discuss? Deadeye and his crew have already brought down the lord here Just let I want to go after her I second that I think it's the best thing to do We don't know if the Dark Wings have what it takes to beat her I'm worried what'll happen if we leave her to You make a good point, Renwell And maybe I'm just being overconfident, but between us and them I think we I have to agree This realm isn't going to be truly safe as long as that lord is still running around out there We need to act Fine by me But isn't Deadeye just gonna take all the credit once we're done? Our job is to break down the walls that oppressed Anna What he chooses to build in their place? For now Not sure Not the truth But I'm afraid I'm afraid And they're not taking a lot of time to leave the room Ehm... The battery what I know What they do They do during the night What does it do What does it do Am I afraid Does anyone Do anyone Are you sure? You should get some rest What's got you up at this hour Just let me be for a minute, okay Why don't you go back to the inn Cadeva Ma non ti si chiesto perché eri? E volevi tutti morti? Ma in realtà tu che volevi fare prima che ti bloccassi? Io devo vedere se ho tutti gli oggetti. Prima di andare da qualsiasi parte. Allora io potevo vendere le piastre. Dove stanno? Piacere? No. Piastre. Tutte queste piastre posso vendere. Ma non è che ci ho fatto molto? 10, 10, bottiglia della vita, 13. Ah quindi ci sto. Vediamo se devo comprare qualcosa. Esca. Esca ammaliante. Beh, ne posso prendere solo una? Ok, vediamo se ci sono nuove armi. Mi manca la roba. Eh sì, lo guardo a tutti. Ah va bene. Come non detto. Vediamo se sono usciti altre missioni durante la notte. Secondo te lo lasciavano là? Ok, quindi qui ci sta avvento. Dobbiamo mettere attacchi di terra ovunque. Eh, io mi sa che c'ho solo uno di terra. E' una sabbia anche dentro la bocca. qui ci sono gli elementi. Ok. 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 Allora, credo che il più grande motivo è per evitare i lordi di sbagliare sui riscaldi. È vero. Tu pensi che l'attività sarebbe come naturalmente a un classico elitico che vanno per un crown. È vero. Ma le regole di Renan come minori. L'attività di noi stessi sarebbe solo destruttivo. Ma come avete visto in Menincia, alcuna abstracione dal l'attività è solo una faccia. Allora, in fine, ci sono tutti usurpati se ti piace o non. Hmm. Questo può essere vero. Ma qualcosa mi dice che... Dobbiamo riuscire con il lord prima, se vogliamo risposte. Chi sarà? Non mi sembra convinto. Cosa significa che c'è un tipo di macchina? Oh, sì. È vero. Credo che ho diventato usato a formazioni di rocchi. Non ne avevano mai registrato. Probabilmente. Sono portati da noi, Renan, quando abbiamo prima inventato... Aspetta, quelli? Quindi significa che c'è un tipo di macchina? Per manipolare le proprietà della energia di Dana? Sì? Pensi. Non è strano che il tipo di energia che ogni rom collezza è così forte? La energia di astra non è fondata da un elemento o l'altro così forte. Quindi i Renans lo rafforzaroni per il contatto di crown. Si sembra la cosa di Renan... Renans questi giorni sono più avanzati che i Danans, in qualche modo. Ma anche loro non semblano capire di fare qualcosa sulle... O è questo qualcosa che è possibile sull'Lenegis? O magari del Renan Homeworld? Non mi sembra di sapere tutto, ma non ho mai visto nulla che sarebbe capire... Ma in un momento, hanno fatto solo questo. Se l'ho messo da ieri. Oh! Infatti! Ripare le armi! Ah! 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 ешón! Ah! 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 Sicuramente pessimo. E quindi aveva zompato una parte della riga. E quindi aveva zompato una ricetta. 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 Uh-huh. 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 no 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 Buona, 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 buona. Se fai oltre il limite, comunque sei sempre vulnerabile agli attacchi. Semplicemente gli fai più danno, anzi no, puoi usare IBA senza preoccuparti che scadono. Matta? Non mi sembrava un boss. Non lo so, si, giro a me, se è un boss, so che mi devo andare a curare. Cura la svelta. Siamo a stacco 12. Siamo così, arrivando questi. È buono, ho un po' un modo per formarsi. E' come se lo fassi ancora. 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 E' come se. E' come se lo fassi ancora. 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 ormai è tardi che vuol dire ormai è tardi ma cos'è che sa sta parliamo a mori Sì? Non ti piace? Ok, come ti sei il grande figlio? Xion è il grande figlio. Sì, allora come Dohalim? Non ho capito questo tipo di Dohalim. È più come un ucchio. Un vecchio ucchio. E come per Law? Hmmmm... Beh, Hoodle ha fatto il piccolo figlio. E Law è sicuramente... Un ucchio? Doi ucchi veramente come... D'accordo! Se un ucchio può essere parte della nostra famiglia, così può un ucchio. Ha, ha, ha. Quando pensi su questo... Sì. Ha dato del cane all'alpo. Come ti permetti? Sì. 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 È una bugiarda. Vai, vai. Non è da nealti. Hoodle. Let me know if you sense anything. Okay. Eh... Io direi di andare a piscare... è bello grosso questa vai fatti pescare pescola enorme ok ho capito andiamo dal ranch e togliamo e ma il cavallo reale bucca perfetto qui sto a posto forgiarmi vediamo se bisogna ottenere qualcosa ah ecco vedi terra ora però farò farlo ne manca uno vabbè ma te lo prendo sicuramente ci hanno con i mostriciattoli allora faccio per aumentare i materiali e prissi la pc elemento elemento punti di combattimento ottenuti non è manco questo ma che faccio adesso? un momento punti di combattimento this should definitely keep you guys full you okay you're not eating what's wrong do you not like yeah I'm used to seeing you more you're not feeling sick are you? no I'm fine it's nothing like what? I guess I just don't understand what the appeal is we could just as easily put everything on a plate and pour the cheese on top of it instead I suppose it lies in being able to decide exactly how much cheese you want there's also something to be said for that's fine and all but I wish the plate to mouth time was shorter I think I understand you don't like having to put in so much effort into eating something yeah I hear what you're saying actually now that I think about it you're a whale in my book there's no one right way to eat a meal tuck in take your time be dainty there's no need to stand on ceremony while we're out camping in the yeah you're right in that case don't I've never seen someone dump that much cheese on a meal before I'll take watch tonight it's okay I've never seen them we're in profit and you're talking like this No no this fun Diri with it with it with it on Hijami with it I created with it with it on лег I want in watching our camp tonight Sì Sara, signora della cucina, perchè io? Forse perchè l'ho usata spesso per fare le ricette. Sperimenta limite attacchi normali, sì è una secondaria, vediamo che dice. Penetrazione più 40, mamma mia. Sì, muoviamoci. Ah, un altro tipo di pesce che non ho pescato. Ci ho Anna, dia della bontà, ah perchè ho curato. Sperimento BA, bene questo sarà un altro sulla cura. Ciao. 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 Io volevo finire almeno uno di questo. eccolo metto visto perché non o o o o o o o o Ho, 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 ho. Ho! Maybe something's going on in the forest. There are still so many creatures we... Hey, Rinwell. What was that whole legend you were talking about? Huh? Oh, you mean about the Dark Wings? Like I said, I sure haven't... Yeah, me... Well, long ago, there was an evil king who tried to bring all of Dana to... However, a pure black owl heard the pleas of the people and decided to help. It chose a young hero and bestowed upon... The story goes that the young hero challenged the king and defeated them with the flame. Seeing Dan, from what I understand, it used to be a really well-known story, but... I guess our people must have forgotten it over time. It's lucky for us you still know it. You know, the part where the hero defeats the king with the flame... Come on, it's just a story. Besides, if we're talking about an owl helping anyone, Kudo would definitely... Sure, I might have helped take out our own kind of evil king with the others, But I'm definitely no hero. That and... Little's wings aren't even black. Huh? Solo quello è il problema. Che so che è bene, conviene far cucinare pure gli astori. Ah, ma sto giro parla. Che possiamo andare? Che so 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 che Grazie a tutti 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 Sembra Grazie a tutti Grazie a tutti